Giugno 1942. Spero di poterti confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che mi sarai di grande sostegno. Per riuscire a immaginare meglio l'amica tanto desiderata, non scriverò i fatti del diario come tutti gli altri, ma voglio che il diario diventi la mia amica. Un'amica che si chiama Kitty. Luglio 1942. Cara Kitty, sono successe talmente tante cose che mi pare che il mondo d'un tratto si sia capovolto. Però, Kitty, come vedi, sono ancora viva e questa è la cosa più importante, secondo papà. Sì, in effetti sono viva, ma non mi chiedere dove e come. Comincerò con raccontarti che cosa è successo domenica pomeriggio. Alle tre qualcuno ha suonato alla porta. Io non avevo sentito, perché leggevo sulla veranda prendendo pigramente il sole. Poco dopo, Margot si affaccia alla porta della cucina, tutta agitata. È arrivata una chiamata per papà, da parte delle SS, mi dice a bassa voce. Mi sono spaventata a morte. Una chiamata. Tutti sanno che cosa vuol dire. Ho subito immaginato campi di concentramento e celle solitarie. E noi dovremo lasciarci andare papà. Naturalmente non parte, mi ha spiegato Margot, mentre aspettavamo la mamma. La mamma è andata da Van Dan per chiedergli se domani possiamo trasferirci nel nostro nascondiglio. Van Dan verrà a nascondersi con noi. Saremo in sete. Silenzio. Io ero stanca morta. E anche se sapevo che sarebbe stata l'ultima notte nel mio letto, dormii profondamente e fui svegliata dalla mamma appena alle cinque e mezzo del mattino. Ci incamminammo sotto il diluvio. Papà, mamma e io. Ognuno con la sua cartella o borsa della spesa, piena degli oggetti più svariati. Appena per strada, papà e mamma mi raccontarono a pezzetti tutto il piano. Già da mesi stavano portando via da casa tutto quello che potevano e il 16 di luglio saremmo andati a nasconderci. Per colpa della chiamata la data era stata anticipata di dieci giorni. Quando siamo arrivati al numero 263 della Prinzengracht, Miep ci ha portati in corridoio, su per la scala di legno, dritti fin su, nell'alloggio segreto. Ha chiuso la porta e siamo rimasti soli. Nessuno sospetterebbe che dietro una semplice porta di pinta di grigio si nascondano tante stanze. 9 ottobre 1942. Carachitti, nient'altro che nutrizie tristi e deprimenti, ho da darti oggi. I nostri molti amici ebrei, un po' alla volta, vengono deportati tutti. La Gestapo per questa gente non ha il minimo riguardo. La si carica semplicemente su carri bestiame e la si trasporta a Westerbrock, il grande campo di concentramento per ebrei della Drente. Se già in Olanda è così grave, come vivranno nelle terre barbariche e lontane dove vengono mandati. Supponiamo che per lo più vengono assassinati. La radio inglese parla di camera gas e forse la morte più rapida. Sono totalmente sconvolta. 29 marzo 1944. Ieri sera per Radio Orange ha parlato il ministro Wolkenstein e ha detto che alla fine della guerra sarà fatta una raccolta di diari e lettere di questa guerra. Naturalmente tutti si sono buttati sul mio diario. Pensa quanto sarebbe interessante se pubblicassi un romanzo sull'alloggio segreto. Già dal titolo la gente penserebbe che si tratti di un giallo. Scherzi a parte, una decina d'anni dopo la guerra sarà divertente sentire come noi ebrei abbiamo vissuto, mangiato e parlato. Qui. Anche se ti racconto molte cose di noi, tu non conosci che una piccola parte della nostra vita. 14 aprile 1944. Qui è tutta una confusione. Non c'è ombra di un filologico e a volte dubito fortemente che in un futuro tutto questo bla bla possa interessare qualcuno. Le confessioni di un brutto anatroccolo. Ecco il titolo di tutte queste sciocchezze. I signori Bolkenstein o Gerbrandi nei miei diari non se ne faranno un granché. 15 luglio 1944. Ecco che cos'è difficile in quest'epoca. Gli ideali, i sogni e le belle aspettative non fanno neppure in tempo a nascere che già vengono colpiti e duramente devastati dalla realtà più crudele. È molto strano che io non abbia abbandonato tutti i miei sogni perché sembrano assurdi e irrealizzabili. Invece me li tengo stretti nonostante tutto perché credo tuttora all'intima bontà dell'uomo. Mi è proprio impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria e della confusione. Vedo che il mondo lentamente si trasforma in un deserto. Sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che ucciderà anche noi. Sono partecipe del dolore di milioni di persone. Eppure quando guardo il cielo penso che tutto tornerà a volgersi al bene, che anche questa durezza spietata finirà e che nel mondo torneranno tranquillità e pace. Nel frattempo devo conservare alti miei ideali che forse nei tempi a venire si potranno ancora realizzare. Tua Anne M. Frank